amici amici di bpm power ben trovati io sono qua con i lego technic sommerso dai lego technic per concludere il nostro il nostro trittico di video dedicati ai mattoncini che andranno di più questo natale questa volta vi faccio vedere la serie technic quella pensata per i più adulti o comunque per gli adolescenti come potete vedere sono molto molto complessi e molto molto grossi si parte da una piccola grumo una piccola gru con qualche meccanismo rotante ma meccanico non c'è nulla di elettrico poi qua abbiamo un 6x6 della volvo molto molto accurato riproduce esattamente il veicolo originale questo ha delle funzioni idrauliche invece controllabili dall'app quindi possiamo far scaricare il cassone direttamente dallo smartphone è un prodotto veramente complesso da montare ma anche molto molto bello da vedere tenete conto che tutti i lego technic necessitano di un montaggio un po più complesso rispetto ai lego system e sono anche beh sono un po più scenici concludiamo con questo enorme questo enorme auto articolato con funzioni elettriche come potete vedere è tutto elettrico anche un piccolo motore a 8 cilindri che si muove pazzesco veramente pazzesco e la gru può essere controllata direttamente dal motorino a batteria c'è un motore a batteria all'interno che vi permette di eseguire i movimenti più semplici quindi sollevare la gru spostare dei carichi e tutto quanto può essere collegato se non mi sbaglio anche allo smartphone i lego technic sono in pronta consegna come quelli di star wars e di harry potter ce ne sono rimasti molto pochi e andranno in via molto molto in fretta quindi vi consiglio di accaparrarvi tutti quelli che vi servono prima del 24 di dicembre e di farlo il più presto possibile io vi ringrazio per averci seguito vi invito a iscrivervi al canale youtube mettere mi piace la pagina facebook e il follow su instagram e dal mondo lego per oggi è tutto ciao al prossimo video